Ciao a tutti dal MIR di Rimini 2019 Stand Exhibo per presentarvi la novità di Sennheiser Assoluta in questo momento, il nuovo sistema che vedete che stiamo usando XSVD che è una famiglia di radiomicrofoni digitali per gli utilizzi di performance live oppure quello che state vedendo per situazioni di recording con una DLSR o videocamera. I sistemi sono, come potete vedere, composti da un trasmettitore e un ricevitore, autonomia 7-8 ore, ricaricabili con una micro USB da un alimentatore per un cellulare o da un computer, semplicissimi da utilizzare perché hanno la possibilità di essere accoppiati premendo semplicemente un tasto che è quello che vedete in contemporanea, i due ricevitori e i trasmettitori si accoppieranno e manterranno il link per tutta la durata dell'utilizzo a prova di un utilizzatore non esperto ma con una qualità comunque audio di un sistema digitale. Esiste anche nella versione Lavalier, quindi un microfono Omni che si mette sulla giacca o la cravatta, esiste anche, scusate per ultimo, il kit da chitarra dove un ricevitore viene messo ovviamente nell'amplificatore della chitarra e con un jack sempre da 6,3 nell'uscita del segnale della chitarra stessa, del pick up. Un'altra novità in assoluto in anteprima che è l'SK 5212, uno dei più piccoli trasmettitori al mondo con caratteristiche professionali high level, top, non ho altro se non salutarvi.